Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi ho aggiornato la stagione di Apex Qui con la stagione 14 mi sembra E non mi è andato Perché? Per la riparazione dei file Quindi innanzitutto prima di cominciare con questo tutorial Ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina E se questo video ti è stato utilissimo di lasciare un like Ok? Ora come avete visto all'inizio dovete andare su Esegui facendo tasto Windows più R E scrivere quello che ho scritto nella barra vuota E quindi che fare? Cancellare tutte queste cartelle Tranne una cartella Local content Quella cartella ci serve Ok? Quindi cancellate tutto Tranne la cartella local content Se qui continua a insistere Nel fatto che bisogna avere il permesso Dall'amministratore Voi continuate a cancellare e cancellare Entrate nella cartella e cancellare tutti i file Mi raccomando Tranne la cartella local content Ok? Quindi che ho fatto? Sono entrato in queste due cartelle Ho continuato, ho continuato, ho continuato Finché non spariva proprio tutto Cioè proprio tutto il file Ok? Ora che facciamo? Di nuovo esegui Per cento app data Per cento Questa qui è la cartella che ci servirà più avanti Quindi mi raccomando Tenetela aperta su app data Perché qua dobbiamo fare un'altra procedura Quindi andiamo su origin E cerchiamo di capire un po' Il problema della riparazione dei file E di aggiornare di nuovo il gioco Ma questa volta ci metteremo Vabbè per quelli che ci hanno un hard disk Ci metteranno un po' Ma per quelli che ci hanno un buon ssd Ci metteranno due minuti Quindi che fare? Una volta fatta quella procedura Mi raccomando Chiudere origin E riavviare il sistema Poi riaprire di nuovo origin Ok? Chiudo un attimo tutto Avvio un attimo origin Ok? Nella mia libreria dei giochi Su Apex E questa volta andiamo sulla rotellina Impostazioni E facciamo Aggiorno gioco Aspettiamo un attimo Con la preparazione Ci metterà poco Ok? Ho dovuto velocizzare Per forza il video Mi raccomando Seguite tutti questi passaggi Perché ha funzionato Ve lo dico Ha funzionato Ok? Una volta completato Clicchiamo su Apex E facciamo questa verifica Dei file di gioco Come potete vedere A me ci sta Mettendo più o meno Due minuti Ho velocizzato il video Apposta Perché una volta Fatta questa verifica Dei dati Mi raccomando Nella cartella Che vi ho detto Di tenerla aperta Perché Dobbiamo andare A cancellare I cache Di origin Qui insieme In questa cartella Lì Quella è la cartella Origin E voi che fate La cancellate Ok? Questa è la cartella Quindi cancellatela Poi chiudete Origin Cioè chiudete Proprio Origin Chiudo anche Steam Per sicurezza Tanto il gioco Ce l'ho su Origin Non ce l'ho su Steam Ok Vi chiederà di nuovo Di aggiungere Le credenziali E' avvio Apex Eccolo qua Si è aperto Ok ragazzi Quindi come ho detto Se questo video Vi è stato utilissimo Lasciate un like Iscrivetevi al canale Ad attivare anche La campanellina Ora vedremo Questa nuova stagione Per tossici Sempre il problema Del matchmaking Che non risolvono Complimenti Agli sviluppatori Per maggiori informazioni Entrate nel server Discord Per una mano Cose così E niente ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo Tutorial Ciao Wow I promise Attention The champion Has been eliminated Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noni ci vediamo